Un'altra gara per cuori forti attende la Seer Safety Perugia, che stasera a Civitanova scenderà in campo per gara 4 della finale Scudetto contro gli eterni rivali della Lube. Sotto 1-2 nella serie, i bianconeri hanno un solo risultato a disposizione, la vittoria, per allungare tutto quanto alla bella. In caso contrario, il titolo di campione d'Italia andrà per la terza volta consecutiva ai marchigiani. I Block Davis sono a Civitanova da ieri pomeriggio e stamattina hanno svolto l'ultima rifinitura all'Eurosole Forum. Per quanto riguarda le formazioni, coach Nicola Gerbic dovrebbe ripresentare il 6-1 visto domenica, con Giannelli in regia, Reiklitski in diagonale, Mengozzi e Sole coppia di centrali, Capitano Leone ed Anderson Martelli ricevitori e Colaci libero. Anche Chico Blengini in casa Lube dovrebbe riproporre la formazione che ha iniziato gara 3, con De Cecco in regia, Zaitsev opposto, Simone e Anzani centrali, Lucarelli e Jant schiacciatori e Balaso libero. Decisive potranno però risultare in un senso o nell'altro anche le molte carte che i due tecnici possono giocarsi dalla panchina. Dirigeranno l'incontro, che si preannuncia quanto mai equilibrato ed emozionante, gli esperti arbitri Andrea Pucker e Massimo Florian, fischio di inizio alle ore 20.45. Come di consueto su Umbria TV vi forniremo un ampio post partita, con collegamenti dal campo e interviste ai protagonisti.